La presenza dell'anticiclone sull'Europa occidentale e sul Mediterraneo occidentale fa fluire, vediamo, correnti da nord sulla nostra regione e sull'Italia e quindi la possibilità di velature sulla nostra regione. Vediamo dunque le previsioni per la giornata di sabato. Cielo in genere poco nuvoloso per il passaggio appunto di velature. Durante le ore serali e notturne sarà possibile qualche banco di nebbia sulla bassa penura e sulla costa nella fascia più occidentale della nostra regione. Temperature minime ancora attorno allo zero nei valori in pianura quindi le possibilità di qualche locale gelata, massime attorno ai 13-14 gradi. Temperature minime sulla costa attorno ai 6-7 gradi, massime attorno ai 12. Per domenica prevediamo ancora cielo poco nuvoloso in montagna per il passaggio di velature mentre sulla pianura e sulla costa variabilità per la formazione di nubi basse che si possono formare per il sollevamento delle nebbie notturne. Temperature minime ancora di poco o attorno allo zero in pianura attorno ai 5-6 gradi sulla costa, massime sempre attorno ai 13-14-14 gradi. La caratteristica di domenica sarà le temperature eccezionalmente alte in montagna con zero termico attorno ai 3.000 metri e valori attorno ai più 7-8 attorno ai 2.000 metri circa. Il tempo poi rimarrà variabile anche lunedì e poi ci aspettiamo un peggioramento nella giornata di martedì. È tutto dall'Osmer. Grazie. Grazie. Grazie.